Il rincaro sul costo del carburante tra esodo e controesodo estivi allo Stato italiano potrebbe arrivare a fruttare circa 2,27 miliardi di incasso tra IVA e Accise. E' questa la stima di Asso Utenti che ha calcolato i ricavi sulla tassazione ipotizzando 15 milioni di autovetture in circolazione sulle autostrade con una media di tre pieni per gli spostamenti tra andate e ritorni. IVA e Accise pesano sulle tasche degli automobilisti italiani per il 55,6% su un litro di benzina e per il 51,8% su un litro di gasolio. I rincari sul prezzo finale del carburante, complice anche il mancato rinnovo per il 2023 dello sconto di 30 centesimi sulle Accise, generano problemi a cascata che alla fine colpiscono soprattutto le tasche dei cittadini. Tra le categorie più colpite nell'immediatezza c'è però anche quella degli autotrasportatori. La CNA parla di speculazione dei grandi colossi e chiede un intervento incisivo del governo come ribadito anche da Luciano Ferrone, vicepresidente nazionale di FITA CNA. È una storia che si ripete ogni anno, nel periodo estivo, festivo poi intorno al ferragosto c'è sempre un po' questa speculazione perché altro non è che una speculazione. Diciamo che la nostra è una categoria già abbastanza tartassata, una categoria sulla quale si interviene un po' poco rispetto alle grosse necessità che questo settore ha sempre più bisogno. Purtroppo le infrastrutture che sono sono quelle che abbiamo al momento e il nostro territorio per la sua morfologia particolare necessariamente si deve muovere su strada ancora e quindi ne risentiamo tantissimo. Poi ne risentono anche i normali cittadini, certo non i benestanti perché fare un pieno di carburante a un benestante magari cambia poco ma magari mi viene da pensare all'operaio che si vuole permettere una settimana di vacanza e che quindi subisce anche lui a sua volta questo rincaro oltre a tutto il resto anche del carburante. Credo che bisognerebbe prendere dei provvedimenti seri, cioè una volta per tutte fermare questa speculazione perché non possiamo più stare ogni volta a parare i colpi, a parare i rigori. Noi dobbiamo fare un programma ben strutturato che in qualche modo tuteli questa categoria. Questi aumenti come pesano sulla vostra categoria? Ma guardi la drammaticità della cosa sta nel fatto che non è aumentato solo il carburante, cioè il settore del trasporto ha subito il rincaro dei pezzi di ricambio, il rincaro dei mezzi. Un tir che costava 120 mila euro oggi ne costa 150. A questo si aggiunge il carburante, l'autostrada, i costi generici di tutto. È chiaro che è una categoria che già è in sofferenza, quindi ha una incidenza importante. Il ministro Urso ha detto che comunque al netto delle accise il carburante italiano costa meno di quello per esempio francese o tedesco. La risposta è scontata e purtroppo le accise le paghiamo, quindi se non ci fossero chiaramente sarebbe meglio.